Il blocco sarà un blocco intelligente, cioè che consentirà alle merci che devono entrare per alimentare la fabbrica di continuare ad arrivare. Ma è chiaro che non è possibile pensare che queste imprese dell'indotto, alle quali sono stati già portati via 150 milioni di euro nella prima fase dell'emergenza ILVA, non abbiano il pagamento delle fatture perché in questo modo si rischia veramente di far saltare e di far fallire decine e decine di aziende. Quindi noi pretenderemo questo pagamento che peraltro ci è stato assicurato perché io ho incontrato apposta la Morselli per questa storia e quindi mi auguro che al più presto questo pagamento possa arrivare perché altrimenti la resistenza di queste imprese rischia di cedere. Aggiungiamo che se non lo fanno noi stiamo studiando un sistema col Presidente del Consiglio perché la Regione paghi le fatture al posto di Mittal e poi subentreremo come creditori dell'ILVA e glielo sconsiglio a Mittal di trasformare la Regione Puglia anche in un creditore della loro azienda perché a quel punto veramente noi li perseguiteremo legalmente ovviamente ovunque al mondo perché questo modo di fare è vergognoso e non corrisponde all'etica di una grande multinazionale come il senore Mittal dice di essere. E mi auguro che questa domenica, questa santa domenica abbia fatto riflettere Mittal sulla follia che sta mettendo in essere perché hanno adottato una strategia di sfida diretta. Nessuno è insensibile alla crisi dell'acciaio di questo momento però un conto è discutere e un conto è scatenare il panico e far fallire le aziende che non hanno nessuna colpa, sono due cose completamente diverse. In questo momento bisogna evidentemente mantenere la calma, questo presidio io lo considero importante perché fa capire che noi non stiamo a guardare come gli operai dell'ILVA che si sono rifiutati di spegnere le centrali elettriche li ho apprezzati moltissimo, devono sapere che questa fabbrica è gestita dagli operai, quelli interni e quelli dell'indotto e quelli che comandano devono sapere che questa fabbrica non è un videogioco, è una fabbrica vera dove se gli operai non intendono obbedire ad ordini che peraltro viano una legge dal mio punto di vista perché la distruzione della fabbrica è un reato dal mio punto di vista, noi saremo dalla parte degli operai e dalla parte di chi impedisce la distruzione della fabbrica.